giovani, tra virgolette, perché comunque è un mondo che è completamente cambiato, è completamente diverso. Sì, diciamo che adesso è molto più fruibile, è molto più facile trovarlo, però allo stesso tempo nella vasta scelta è difficile comunque trovare una connessione, cioè io credo nella musica come passione che l'intesa tra musicisti è prettamente una cosa magica, cioè non la puoi scegliere, ti trovi in studio e se nasce quella magia uno riesce comunque a creare qualcosa di bello. Per la velocità dei tempi purtroppo non esistono più album, comunque è tutto ridotto, ogni venerdì esce comunque musica, le tempistiche di ascolto sono ridotte, quindi si cerca comunque di canalizzare il tutto su un single, quindi c'è un single, tre mesi di promo, tutto quello annesso e con il produttore anche là dipende dal genere, però allo stesso tempo ad oggi credo che sia anche più facile lavorare comunque dalle basi da casa, cioè non è più impossibile pensare che comunque uno crea un'idea a casa e poi si fa aiutare dal produttore, almeno nel mio caso l'idea la creio. Senti, ancora complimenti al regista perché ha reso proprio una bellissima atmosfera, oltre che bellissime immagini, ma io vorrei anche sapere Gianmarco, ma come mai voi tutti della musica, poi alla fine andate tutti a Milano? Perché? Perché Milano è il centro? Perché Milano è più facile? Che cosa succede a Milano? Diciamo io come questo tipo di corso in realtà non c'era tanta alternativa perché è un corso sul music business branding che è nato col covid in realtà, cioè non ci sono tante realtà che lo fanno e l'unica era lo IED a Milano, in questo caso forniva, c'era questo corso che comunque era molto interessante su alcuni aspetti fondamentali, però sì, realisticamente a Milano ci stanno molto più opportunità per un genere musicale, cioè comunque io canto in inglese in Italia, a Roma è molto difficile, comunque anche a Milano per l'inglese è difficile, però tutte le etichette, tutti i musicisti, comunque i poli sono Milano, credo, Milano, Los Angeles e Londra, comunque per il mio genere, i poli comunque musicali si avevano un'opportunità, poi la musica è molto realistica, cioè di base al networking, comunque la conoscenza delle persone, io poi facevo il barman e di base pure lì comunque a Roma è pieno, però qui sono molto più locali, molti più eventi, molto più gente che fa parte del campo, diciamo, Roma è un po' più dettore. Senti, che ti stai che magari più in là con la tua costanza e la determinazione nell'inseguire il tuo sogno, magari diventi il prossimo Mahmood, che dici? Lui mi piace tanto, devo dire il genere si avvicina molto al mio, sto sperimentando a cantare in italiano e vocalmente comunque credo lui e Mengoni siano un po' i... come vocalità si assomigliano. Come diceva prima, come generi di quelli italiani che piacciono a me del momento, ci sta tutto un filone mix tra Popper e B, Indy, Venerus, Fra Quintale, ci sono delle realtà secondo me molto simili a quelle inglesi che stanno nascendo, cioè al di là di quello che è Trap, Drill, il mondo Pop, potrebbe comunque ampliarsi. Ampliarsi, una domanda molto Pop a proposito di Pop, ma i tuoi genitori, i vostri genitori, perché abbiamo tantissimi cantanti, a me mi arriveranno 20 e mea di cantanti, musica eccetera, come vivono il fatto, comunque, e c'è l'impostazione borghese, e c'è l'impostazione un po' più tradizionale, ma comunque avere un figlio che fa l'attore, il cantante, il ballerino, è un po' a volte, purtroppo, lo dico a mal in cuore, un po' preoccupante, perché è un mondo difficile, ma anche perché comunque non è garantito nulla. E sappiamo che ci sono tanti, lo dico anche per i ragazzi che ci stanno ad ascoltare, ci sono tante, purtroppo, promesse non mantenute, è un settore molto complicato, come l'hanno preso i tuoi genitori? Allora, diciamo che sono giovane, ma non giovanissimo, cioè io ho iniziato a fare musica a 27 anni, e ora ce ne ho 28, e comunque sta in quella fase, per la vecchia mentalità, che comunque è quella che crei famiglia, o vai verso quella direzione anche lavorativa. Diciamo, io non ho mai avuto la passione per il posto fisso, comunque una predisposizione per l'incognito mi è piaciuta, e loro conoscendomi comunque, che ero un po' la mente ballerina, erano preoccupati comunque perché, come dice lei, è difficile comunque, è un mondo super difficile, se c'è una possibilità su un milione, però io credo nella mia passione, nelle mie capacità, quindi io comunque sono realista e razionale, cioè non c'ho... I tuoi genitori ti hanno approcciato, insomma? Sì, sì, devo dire che nel complesso, anche perché mia madre da piccolo cantava... Ecco, vedi che abbiamo scoperto, dietro c'è sempre, ma io in realtà lo immagino, scherzo, quindi cantava, a che livello cantava? Era una cantante di... No, amava cantare. Amatoriale, sempre amatoriale. Diciamo, però era, secondo me, un talento, cioè non perché è mia madre, cioè nel senso... Ci aspettiamo un coro con tua madre, potrebbe essere una novità. Se riuscirò a fare... Ah, come no? Cioè, Kanye West ha basato un album sulla mamma, che è Donda, diciamo magari un giorno, spero... Assolutamente. Guarda Gianmarco, il brano che ci hai fatto vedere, l'estratto da Love Journey, Can You Feel This Vibe, è veramente molto carino, molto orecchiabile, molto fresco per l'estate, e sicuramente prende, è sicuro questo. L'importante è mantenere questa posizione, perché è un mondo molto difficile, ma stai dimostrando, già avendo fatto questo primo disco, di essere molto determinato in quello che vuoi ottenere, e questa è una molla fondamentale per poi riuscire nella vita, perché tu non sei il classico da busta paga, e nemmeno ci diventerai mai, quindi essendo uno spirito libero, dovevi fare una professione libera, artistica, come questa, che a lungo... Cioè, il duro è solo sopportare i primi anni, poi a lungo termine arriverà, come si suol dire, il panino, e sarà ben corposo, ma all'inizio c'è da soffrire un po', questo è. Però si vede che sei molto motivato, si vede che hai fatto un bel pezzo, perché te l'ha provato anche un critico musicale molto difficile, che è Alessandro Gatta. E anche il video è veramente... Ha fatto veramente bene, sì, sì, veramente. Grazie. Quindi noi rifacciamo i migliori complimenti, Gianmarco Principe, by love, by in arte, per la tua carriera, in bocca al lupo per il tuo disco, e appena avrai qualche grossa manifestazione, informaci che così la rappresenteremo a Cusano TV. Grazie mille, buon lavoro. Grazie mille, grazie mille, a vederci. Ciao, ciao. A vederci. Allora, abbiamo anche chiuso questa pagina, molto carina, molto diversa da quella della letteratura e musica, ma ugualmente degna di nota, perché abbiamo visto come un ragazzo, senza, diciamo, una preparazione specifica, ma con una grande voglia di imparare, adesso sta facendo questi primi corsi, è partito in un bancone di un bar in karaoke, è riuscito a fare già il suo primo disco, una clip veramente molto carina, e gli auguriamo il meglio perché Gianmarco Principe è uno di quei giovani che hanno talento, e quindi invece di andare al talent, il talento lo sviluppa singolarmente e gli auguriamo di raggiungere... In bocca al lupo a tutti i ragazzi che ci provano. Assolutamente, assolutamente. Diamo la linea alla pubblicità, poi abbiamo la pagina sull'economia.